Con oltre 60 espositori si apre la 41esima Mostra Mercato dell'Artigianato ad Anghiari che fino al 1 maggio riempirà come di consueto le botteghe del Centro Storico di Artigiani. Lavoratori del legno, del tessuto, del vetro, della ceramica, dei gioielli e anche del riciclo con alcuni stand specializzati nel recupero artistico di materiali di scarto riconvertiti in oggetti d'arte e design. Siamo arrivati alla 41esima edizione della Mostra Mercato dell'Artigianato qui a Anghiari. Fra poco ci sarà l'inaugurazione, una mostra che continua a mantenersi giovane nonostante l'età e che continua a portare ad Anghiari tanto interesse e tanti turisti. Direi di sì, guarda, quest'anno c'è stato un interesse anche da parte degli artigiani, ce ne sono 10-12 in più e quindi il primo interesse è quello. Poi del pubblico che nonostante il tempo oggi c'è numeroso. Accanto alle botteghe permanenti e agli artigiani ed artisti che parteciperanno con le proprie botteghe temporanee, anche quest'anno la mostra si arricchisce di eventi collaterali, due dei quali all'interno del Palazzo Comunale da poco restaurato. Senz'altro ci sono due, li abbiamo qui dentro al Palazzo Comunale rinnovato, c'è il panno di Piero, il panno del Casentino che è una mostra collaterale e poi sopra ci sono una quindicina di artigiani che spongono i loro prodotti, artigiani e artisti direi, quindi sono molto belli. Poi al Palazzo Testi c'è la mostra sul benessere e ci sono tutti i produttori di cose, creme, tisane per il benessere e poi ci sono gli artigiani che sono quelli che fanno la mostra. E allora ricordiamo fino a quando possiamo venire ad Anghiari a questa 41esima mostra a mercato dell'artigianato? La mostra finisce il primo maggio, speriamo che il tempo ci aiuti e volevo dire che facciamo durante la settimana, i giorni che c'è meno affluenza, abbiamo organizzato un raduno di camper, di camperisti, gli offriamo delle cose come si fa il pane, come si fa un accesto di vimini, queste cose qui. Quindi penso che sarà viva tutta la settimana. Grazie.